Una furiosa voglia di vincere è quella che Tedino si aspetta domani dalla sua squadra. Dal Teramo che torna qui sul terreno di gioco del Bonolis per una gara delicata contro la Paganese. Lo fa a distanza di una settimana da quella beffa subita al Viviani di Potenza al minuto 92. Una gara che fatto salvo l'errore e il gol subito nel finale l'allenatore Biancorosso comunque considera molto positiva. È stata una partita quella scorsa dove secondo me noi abbiamo fatto una prestazione di squadra sotto l'aspetto generale contenitiva e ricca di ottimi spunti della fase di non possesso. Non abbiamo fatto quello che pensavamo del tutto cioè quindi magari avere un indice di pericolosità maggiore quando ripartivamo. Abbiamo provato 3-4 volte, 2 volte all'inizio della partita che magari con il vantaggio poteva anche darci un po' di campo in più. Stiamo lavorando in maniera decisa, pesante, vedo un grande impegno a parte di tutti. È logico che il grande impegno deve sfociare nella furiosa voglia di vincere. Ci sarà la Paganese di fronte, una squadra che Tedino descrive come una buona orchestra, un buon piatto dove tutti gli ingredienti sono ben miscelati. È una squadra che ha dei connotati di squadra proprio nel senso che fanno gol un po' tutti. E quindi è una squadra che funziona. Cioè quando c'è un buon piatto vuol dire che tutti gli ingredienti sono aggregati, sono intersecati molto bene e danno il risultato di un buon piatto. Quando c'è una buona musica vuol dire che tutti quanti gli orchestrali stanno suonando bene e per fare una buona musica ci sono dei tempi da rispettare. Formazione che manda in rete tanti protagonisti diversi. Allora ci vorrà probabilmente anche un Teramo diverso, schierato con un 4-2-3-1. Queste sembrano le ultime indicazioni che vengono dalla seduta di rifinitura. Non abbiamo fatto, come lo sapete meglio di me, ormai sono una ruota libera. Non credo siano i numeri a fare la differenza perché se no bastasse quello. Credo che sia l'interpretazione che un giocatore dà. Il fatto di essere sicuramente più, di osare un po' di più, di essere un po' più ficcante, di avere anche una dose massiccia di movimento con la palla ma senza la palla. È quello che ci manca un pochino di più. Perché quando abbiamo la palla secondo me sbagliamo ancora troppi disimpegni e quando non abbiamo la palla dobbiamo attaccare meglio gli spazi. Convocabile Minelli, ancora qualche ora di attesa per sapere se Cristini ci sarà. Certamente non sarà rischiato dal primo minuto, allora giocheranno Iotti e Piacentini. Anche perché la sfida con la Paganese apre un trittico che poi vedrà il diavolo. Mercoledì pomeriggio andare a Francavilla per il turno infrasettimanale e poi domenica prossima tornare proprio qui al Bonolis contro la Casertana. Io spero che ci sia una squadra come domenica scorsa sulla fase di non possesso, la prima cosa che mi chiedo. E sarà difficile perché la componente tattica loro è diversa. E spero di avere quelle situazioni che noi nella testa abbiamo sempre avuto negli ultimi 15 anni della mia attività quando abbiamo sempre fatto tantissimi gol. Se questo non arriva subito, non sta arrivando, dobbiamo solo avere la costanza e perseverare questo tipo di lavoro. Ora vediamo il secondo video. Grazie a tutti.